presidente allora in questi giorni ha ripensato un po al suo percorso a quello fatto la sua vita all'interno della fondazione è un pezzo è un lungo pezzo di vita 15 anni è un periodo piuttosto lungo devo dire che ho ripensato a lungo anche perché ho avuto l'occasione domenica scorsa di fare una relazione di fine mandato ai soci della fondazione perché era l'ultima assemblea prima del 13 di maggio e devo dire che ho dovuto ripensare un pochino a tutte le cose che ho fatto cose belle che mi hanno dato grande soddisfazione potrei elencarle che mi danno soddisfazione che fanno sì di giustificare l'impegno che ho avuto ho fatto in questi 15 anni purtroppo sono anche fatti negativi perché inevitabilmente abbiamo gli ultimi 10 anni sono stati gli anni di maggior crisi economica e finanziaria di sempre potrei dire per l'italia o almeno degli ultimi 100 anni e questo ha voluto dire che anche la nostra fondazione come tutte le altre fondazioni ha avuto delle perdite noi queste perdite però li abbiamo ampiamente compensate da realizzazioni di strutture sociali culturali importanti sul nostro territorio anche da un punto di vista economico molti di quelli che mi hanno criticato in questi anni sia perché non mi sono mai sottoposto alla politica e quindi ho avuto delle critiche qualche volta pesanti chi entra qui in fondazione deve avere rapporti con tutti io mi sono trovato bene per esempio con il sindaco con l'amministrazione a guzzi mi trovo bene con seri ma ho trovato anche piena sinergia con gli altri comuni degli altri del nostro territorio perché il primo punto di riferimento della fondazione è l'amministrazione a qualunque colore appartenga qualunque sia chiunque sia il sindaco o l'amministrazione quindi ecco direi che molti di questi dopo quello che è avvenuto in questi anni avendo visto queste opere si sono ricreduti e mi hanno anche detto che si sono ricreduti lascio questa questa struttura ritengo più forte di quella che ho avuto in consegna da Valentini nel 2004 questo perché tutte le fondazioni si sono meglio caratterizzate in questo periodo perché hanno acquistato forza la nostra oggi è la seconda fondazione delle Marche ed incide in un territorio molto limitato e quindi abitanti di questi territori avranno sicuramente molto molti benefici dalla fondazione grazie